Ciao, oggi vorrei rispondere a una delle domande che mi hanno fatto ultimamente. Perché noi attiriamo sempre certi tipi di persone, cioè attiriamo più o meno sempre le stesse persone? Ovviamente se noi continuiamo e manteniamo un atteggiamento mentale statico, ovviamente l'ambiente rispecchia noi stessi. Quindi noi attiriamo le persone che riflettono in qualche modo le nostre credenze, tante volte limitanti ovviamente, su noi stessi e sugli altri. Spesso lasciamo entrare nella nostra vita persone che non avremmo mai pensato potessero entrare, individui molto diversi da noi, che però hanno un compito ben specifico, quello di aiutarci a capire, a guarire e a volte anche a perdonare noi stessi e gli altri. Quindi se noi incominciamo a capire, a cambiare atteggiamento mentale, quando io parlo di cambiare non vuol dire snaturarsi, diventare un'altra persona, ma sciogliere, trasformare quelle che sono le credenze limitanti e soprattutto trasformare i nostri limiti in opportunità, in potenzialità. Bene, a volte noi attiriamo persone che arrivano nella nostra vita e sicuramente arriveranno a premere quel famoso pulsantino, quel famoso tasto che noi non sappiamo nemmeno di avere. persone con caratteristiche che noi non possiamo accettare a volte, con atteggiamenti che non si addicono a noi, ma che noi notiamo negli altri, forse attiviamo persone che magari, in quel momento, ci stanno aiutando a combattere la nostra battaglia interiore. Quindi cambiamo atteggiamento, vediamo queste persone che captano la nostra vita come un'opportunità, un'opportunità di fare un salto di qualità, un miglioramento. Ricordate che lamentarci ciò che abbiamo nella nostra vita vuol dire soprattutto disprezzare noi stessi. Allora, domanda, perché attiriamo le persone sbagliate a volte? Beh, molti mi hanno chiesto, mi hanno fatto questa domanda, mi hanno chiesto questa cosa, molte persone che seguo, che seguiamo, si lamentano delle loro storie d'amore, ma curiosamente e paradossalmente attirano sempre individui che non le valorizzano, individui che attribuiscono a loro un ruolo marginale o non le includono nelle loro priorità. Bene, se avete la tendenza ad attrarre persone che vi mentono, che vi ingannano, che tendono a manipolarvi, sicuramente questo è dovuto al fatto che voi non vi valorizzate abbastanza, che la vostra autostima è danneggiata, e poi vi mostra come essere piccoli, vulnerabili. La persona che è comparsa nella vostra vita vi sta dimostrando quello che voi credete in voi stessi, quali sono le credenze limitanti che voi avete, l'opinione che consciamente o inconsciamente avete di voi stessi. Magari queste persone ci fanno sicuramente arrabbiare, a volte, scusate francesimo, ci fanno incazzare veramente, però se noi capiamo che hanno una funzione, allora possiamo sfruttare, a nostro vantaggio ovviamente, la funzione che hanno queste persone qua. È ovvio che dobbiamo fare in modo di capire il perché questa cosa succede, quindi prendere coscienza della cosa e poi decidere di mettere dell'azione affinché questa cosa non continui più. Quindi prendere consapevolezza di noi stessi, ovviamente. È ovvio che se voi favorite delle relazioni squilibrate senza un motivo chiaro, vuol dire che c'è qualcosa che non va, vuol dire che c'è qualche problema veramente più grosso che una mancanza di autostima, perché se andate a alimentare certi rapporti entrerete nel loro ciclo di influenza e probabilmente finirete anche voi a mentire a voi stessi soprattutto per ingannare voi stessi e snaturarvi pur di stare al gioco e stare nelle grazie della persona che sta cercando di manipolarvi. Ricordatevi quindi che se attirate persone sbagliate, queste persone sono il riflesso di quello che voi alzarete, sono il riflesso del valore che voi vedete soprattutto in voi stessi e che ovviamente le persone esterne, soprattutto i manipolatori, riescono a percepire in voi. Quindi percepiscono in voi la persona con bassa autostima, facilmente manipolabile e facilmente giostrabile a livello emozionale. Quindi dovete imparare a non temere il cambiamento, quindi non temere di andare a rompere gli schemi e le abitudini e quindi le credenze limitanti che vi tengono ancorati a questo modo di vivere, a questo modus operandi che vi porta solo ad avere insuccessi. Come disse Gurdjieff, Viviamo nel passato, ma il passato è morto. Se continuiamo a vivere così nel passato, il futuro sarà come il passato. Quindi dobbiamo vivere su noi stessi, cambiare qualcosa di noi nel presente e allora forse il futuro sarà diverso e ovviamente sarà migliore. Quindi non siamo noi che veramente attraiamo per forza le cose sbagliate, noi attraiamo le persone con cui decidiamo di intraprendere una relazione non perché sono sbagliate, perché in quel momento ci servono se le sappiamo usare. Quindi la persona che arriva in quel momento ha una funzione. Ora, vogliamo essere succubi di quello che succede, quindi succubi degli effetti o usare questa persona come causa del nostro cambiamento? Ovviamente, se voi cercate nel partner una sicurezza, una stabilità, probabilmente sarete attratti magari dalla persona che dimostra spavalderia. Se invece in quel momento avete bisogno di sentirvi forte, allora cercherete un partner più condiscendente. Se avete problemi economici, cercherete un partner con un lavoro più stabile, con una solidità economica e così via. cioè cercate di, così, sopperire alcune carenze nella parte esterna. Ovviamente, la responsabilità di quello che attraete è solo ed esclusivamente vostra, nostra. Cioè, noi attraiamo e quello che attraiamo è la nostra completa responsabilità. Allora dobbiamo imparare a conoscerci a fondo, imparare ad attuare strategie di miglioramento, di cambiamento consapevole, affinché possiate vivere una vita più felice. La vera maturità, in fondo, vuol dire accettare che tutto ciò che ci succede è utile ed è un processo necessario per la nostra crescita interiore. Ovviamente, dobbiamo far sì che tutto quello che succede venga utilizzato come stimolo per crescere, per migliorare e per far sì che le cose che succedano non ci capitino più. Io, sinceramente, ho avuto diversi episodi abbastanza pesanti, ma usati nel modo giusto e costruttivo mi hanno permesso di utilizzare le mie conoscenze di vita, i miei percorsi di studio per aiutare le altre persone. Quindi ho dato un valore, una valenza positiva alle cose che mi sono successe e le ho sfruttate, girate a mio favore, ovviamente. La cosa importante è capire che se una persona abusa di voi è perché noi gli permettiamo di farlo. Questa regola vale sempre in qualunque tipo di rapporto. non è perché credate che una persona manipola se voi permettete di essere manipolati. Una persona vi urla se voi permettete che vi urli. Una persona vi tratta male se voi permettete di essere trattati male. Quindi, qualunque sia il rapporto di coppia, di amicizia, di lavoro, è importante proprio che voi partiate dalla trasformazione delle vostre credenze limitanti e dal credere che voi meritate veramente, come dice giustamente la mia collega serena, di essere la parte migliore di voi stessi. Perché, come dico sempre io, la cosa fondamentale è vivere, non solo sopravvivere. Quindi è veramente importante fare un salto di qualità, riuscire ad andare oltre quelli che sono i limiti che la nostra mente ci impone e vivere una vita veramente che sia una vita felice. Bene, spero di esservi stato utile anche questa volta qua. Grazie, ricordatevi che domenica, questa, il 26, faremo un workshop a Milano proprio sul cambiamento consapevole, che non vuol dire snaturare noi stessi, ma vuol dire proprio superare i nostri limiti, superare le nostre dinamiche mentali che non ci permettono di andare avanti, di evolvere e di creare meccanismi giusti per rompere gli schemi e vivere una vita felice. Per qualunque cosa sotto, nelle descrizioni, troverate i miei contatti. Grazie per avermi seguito, a presto, ciao!